Ciao a tutti, ben ritrovati nell'allevamento di Dario Capogrosso Sarezzano. Andiamo a scoprire di cosa parleremo oggi. Lui è Dario Capogrosso, allevatore professionale di passione. La cia intende con questa rubrica e questa è la prima puntata valorizzare il mondo cinofino e il ruolo del cane nell'agricoltura e lo facciamo con uno dei principali protagonisti sulla scena internazionale, addirittura mondiale come vedremo nel corso delle puntate. Dario Capogrosso, cominciamo questo percorso insieme. Buongiorno Jenny, sono contentissimo tu sia oggi qui nella mia casa, quindi nel mio allevamento. Sono infatti molto contento che assieme alla GIA, di cui faccio orgogliosamente parte, si è deciso di iniziare questo progetto birota, che spero, mi auguro, mi auspico appunto, possa diventare importante per voi, insomma, per i spettatori, mettiamola così, per capire vari aspetti del mondo del cane, dell'etologia canina, che molto spesso si tralasciano, i proprietari non riescono bene a cogliere con forza e con l'efficacia dell'oputa. E sono altrettanto contento, appunto, posso collaborare con te e con voi per il mondo agricolo, perché il cane effettivamente è stato sempre il primo autore nel mondo agricolo. Quindi questo ritorno alla vera essenza del cane, quindi come coadjuvante dell'agricoltura e degli agricoltori, è per me bellissimo, fondamentale, sono veramente felicissimo di poter collaborare con voi per questo progetto. Grazie mille. C'è altrettanto che voi siate amanti dei cani oppure agricoltori, seguite le nostre puntate perché scopriremo insieme un mondo davvero interessante. A presto!